in questo nuovo video shop oggi è uscito il samurai nuovamente moscia poi è uscito come al solito la donna e il suo piccone artigio del gatto poi è uscito questo qui come si chiamava questo venturion con il suo piccone aerodinamico poi è uscito all'attacco nuvola questo è bello ragà questo per il mio galaxy sarebbe stupendo lavora solo colpo di frusta presso fuso spin nel razzo e rompi ghiaccio ragazzi per il momento questo è il nuovo video shop ci vediamo domani live per le prossime skin ciao ragazzi